Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla FIPILI, personale su strada, per lavori, segnalato tra Vicarello e il Bivio per la 12 in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 69 Valdarno, senso unico alternato per lavori, al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. Ricordiamo che oggi pomeriggio il Giro d'Italia passerà dalla Toscana con modifiche alla viabilità nelle province di Massa, Carrara e Lucca dove è previsto l'arrivo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!